Su impulso del suo presidente Antonio Tavani, l'Ater di Chieti sta rilanciando una delle sue mission istituzionali più importanti che riguarda l'imponente patrimonio immobiliare 2368 alloggi, ovvero la possibilità di consentire a chi è assegnatario di diventare proprietario in tempi brevi e con formule agevolate di acquisto a tasso zero e fino a 15 anni. L'opportunità, destinata soprattutto alle coppie giovani, spiegata dal direttore di Ater Chieti, Giuseppe D'Alessandro. Il nostro obiettivo è quello all'interno della normativa regionale consentire il passaggio di proprietà dall'ente, dall'azienda territoriale di edilizia residenziale pubblica a chi ha maturato il diritto, che ricordiamo si consuma entro 5 anni dalla possibilità che si è consumata del canone di affitto regolarmente pagato, matura il diritto di poter fare un'istanza e acquistare finalmente una casa. Ovviamente questo deve avvenire in tempi brevi, perché per questo il Consiglio di Amministrazione dell'azienda ha dato un atto di indirizzo anche alla direzione affinché queste procedure avvengano in tempi brevi. Pensate di avere molte richieste? Abbiamo regolarmente delle richieste. Uno dei problemi principali che blocca la possibilità di vendere questi alloggi è un elemento tecnico giuridico, il diritto di superficie, cioè il luogo dove la casa venne costruita 20, 30, 40 anni fa. Abbiamo avviato un dialogo istituzionale con le municipalità che hanno maggiore densità abitativa in modo da rendere più spedita questa operazione di cessione. E questo è l'obiettivo per ridurre il disagio abitativo e trasformare un diritto in un sogno che si concretizza, in particolare da chi è più giovane e da chi è più fragile. Questo è l'obiettivo su cui noi vogliamo concentrarci. Oltre alla vendita degli alloggi l'Ater vi state anche concentrando, non so se lo state già facendo o lo farete a breve, anche sulle assegnazioni. Ci sono delle novità? Cosa c'è da sapere? Sì, a margine di una ricognizione del patrimonio inutilizzato perché necessita ovviamente di interventi di manutenzione straordinaria per renderlo fruibile, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di dare come priorità per in particolare i canoni concordati. Sono quelle abitazioni che consentono a chi non ha un disagio estremamente difficile ma non ha neanche la possibilità di poter accedere ad un affitto normale o all'acquisto di un'abitazione normale di poter accedere a un canone concordato. Su questo tipo di abitazioni noi daremo priorità alle giovani coppie e alle famiglie con persone fragili o componenti della famiglia che hanno difficoltà.